Un determinato bisogno al quale rispondiamo e un'altra persona disabile con un medesimo bisogno al quale non rispondiamo. Questo articolo 5 è poco utilizzato in effetti perché se noi guardiamo il percorso che hanno fatto, che è stato seguito dalla giurisprudenza per costruire l'incrocio di cui stiamo parlando, in realtà non ha fatto riferimento lì, ha fatto riferimento piuttosto a un'altra teoria, la teoria cosiddetta del nucleo indefettibile di bisogni sociali. Allora ripercorriamolo un attimo questo percorso che a tutti noto, non so se siamo più avvocati, più operatori, poi nel caso farete domande, perché credo che per gli avvocati questo percorso sia amplissimamente noto e quindi lo richiamo, o anche per gli operatori, e quindi lo richiamo proprio solo per sommi capi. La vicenda dell'incrocio condizioni di disabilità e cittadinanza nasce nel momento in cui nell'ordinamento del 2000 viene introdotto il famoso articolo 80,19 della legge finanziaria che dice che a tutte le prestazioni si accede solo con il permesso di lungo periodo, per il cittadino straniero si ottiene avendo 5 anni di residenza, un reddito minimo, non eccessivo di 6.000 euro l'anno, ma comunque un reddito minimo, è un alloggio idoneo e quello, come sapete, è molto più difficile da ottenere che un 6.000 euro di reddito. Bene, la Corte Costituzionale praticamente quasi subito dopo l'entrata in vigore di questa norma comincia a affrontare il problema, è costituzionale questa limitazione e come sapete sicuramente articola il suo percorso in due fasi, in una prima fase dice è semplicemente irragionevole questa disposizione perché siccome quel titolo di soggiorno richiede un reddito minimo, non puoi dare una forma di sostegno al reddito e alla salute e al contrasto alla disabilità chiedendo un titolo di soggiorno che a sua volta richiede un reddito. E già non puoi dire ti aiuto ma se hai già fatto un pezzo di strada da solo, perché è di una evidente incoerenza che davvero non c'era bisogno di scomodare la Corte Costituzionale per rendersi conto che non puoi dare se uno ha già qualcosa e non dare niente se uno non ha mai avuto in me. Prima fase. Seconda fase, molto più importante di quella che ci interessa, è la seconda fase nella quale ha detto no, ma non è solo un problema di incoerenza, è un problema che c'è quel nucleo essenziale di diritti sociali che ciascuno porta con sé nel momento in cui attraversa il confine. È una rivoluzione davvero importantissima, cioè i diritti fondamentali della persona che ciascuno porta con il suo fagottino quando attraversa il confine non sono solo i diritti di tutela della persona, non essere torturato, non essere imprigionato ingiustamente, avere un processo eccetera, ma sono anche dei diritti sociali. Quel nucleo, rispetto a quel nucleo, non puoi fare differenze. Senza rubare la parola a Laura che poi parlerà dei minori, ho scelto una delle varie sentenze che hanno affermato questo principio che è quella sull'indennità di frequenza, la 329 del 2011, ma tutte anche le altre che hanno sostanzialmente le stesse espressioni, quelle sull'assegno mensile di invalidità, pensione di inabilità, eccetera, eccetera, ma sono espressioni significative. L'attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale, cioè gli anni che servono a maturare il requisito che poi a sua volta consente di accedere al permesso di lungo periodo, che poi a sua volta consentirebbe di avere la prestazione, l'attesa del compimento dei cinque anni potrebbe comprimere sensibilmente le esigenze di cura e assistenza di soggetti che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare, se non addirittura vanificarle in toto. E allora c'è un'esigenza, ci dice a chiusura di quella fase lì, c'è un'esigenza di assolutezza di questi diritti sociali che non tollera né condizionamenti a un certo titolo di soggiorno, né differimenti, te lo darò dopo. No, quel nucleo non tollera nessuna differenza. Allora, all'esito di questa prima fase di incrocio, quali sono gli interrogativi che questo incrocio ci lascia? Uno, molto pratico, che il legislatore non ha mai messo mano a modificare la legislazione dopo queste sentenze della Corte Constituzionale. Quindi noi abbiamo ancora, se uno scorre la gazzetta ufficiale o scorre la norma, si trova ancora quella norma lì, articolo 80, articolo 19, eccetera, eccetera. E questo non ha senso, perché ovviamente la legislazione deve essere chiaramente e univocamente indirizzata a chiarire quali sono i diritti sociali delle persone. Ma al di là di questo, che può essere solo un problema pratico, il problema è che dichiarando in Costituzionale quelle norme è rimasta in piedi l'altra che prima dell'articolo 80, come 19, disciplinava l'accesso a queste prestazioni, cioè l'articolo 41 del testo unico in migrazione, il quale non è mai stato toccato da sentenze della Corte Constituzionale. Cosa ci dice l'articolo 41? che tutte le prestazioni sociali vengono riconosciute a coloro che hanno un permesso di almeno un anno. Ora, oggi come sapete, forse sapete, permessi inferiori all'anno sono abbastanza rari, ma in teoria potrebbero essere riconosciuti, per esempio, a un titolare persino di un rapporto di lavoro, di un permesso per lavoro, ma con un rapporto di lavoro a termine, il testo unico dice massimo un anno, ma in teoria può anche essere di sei mesi, quindi qualcosa può succedere. C'è il permesso per cure mediche che può essere inferiore all'anno, e è esattamente il permesso che di solito richiede di accedere poi a prestazioni di tutela della salute. Quindi, la situazione è questa qui, cioè caducato il limite, il permesso di lungo periodo, resta quest'altro limite. Si può dire non è la fine del mondo, perché non sono molti quelli che restano esclusi, ma a parte che ci sono, e forse anche uno è grave, quello sul quale dobbiamo riflettere è ma se il nucleo è indefettibile e non ammette limitazioni, perché quella limitazione là, cinque anni di residenza, l'alloggi d'odio, il reddito minimo non va bene, e questa qui avere un permesso di almeno un anno invece dovrebbe andare bene, è un problema teorico e pratico. Cioè o sto nucleo c'è e non può essere toccato da nulla, oppure può essere toccato un po' sì, un po' no. Ma non è questo che ha detto la Corte Costituzionale. Certo, questo secondo limite che oggi ci troviamo ancora è molto più ridotto rispetto a quello di prima, è molto più contenuto, e però questo ci deve lasciare sollecitare una riflessione che faccia chiarezza su questo punto. Allora, se mi sposto attraverso il confine, per ripetere l'immagine, con questo bagaglio di diritti sociali inscalfibili, devono essere inscalfibili anche rispetto all'articolo 41, che tra l'altro poi ha una sua anche incoerenza per carità. Adesso forse con le modifiche delle prestazioni sociali che entrano in vigore da luglio, forse verrà ripescato, quindi andava bene questa scelta del 98, che era stata fatta col varo del testo unico immigrazione. E però ha una sua anche incoerenza. Pensate che può accadere che uno stia qui magari per dieci anni, poi nel momento in cui chiede la prestazione, per caso in quel momento ha un permesso di sei mesi, e allora perde tutto, che ha assolutamente senso. E quindi questo è un primo problema che rimane. La seconda questione è, dimmi Livio quando, fammi un segno, quando ho finito vedo che la voce regge. Vai pure, visto che regge la voce, poi se mi puoi fare. No, no, cinque minuti e ho finito. L'altra questione che rimane aperta da quella costruzione del nucleo indefettibile è quella delle legislazioni, una è questo qui l'articolo 41, e l'altra è quella delle legislazioni regionali che dividono, selezionano tra persone con disabilità. E ci sono incredibilmente. Ci sono regioni che addirittura con legge operano questa distinzione. Penso a una legge della Toscana che riconosce un importo una tanto ma all'anno di 700 euro per le famiglie con un minore disabile grave, ma richiedono due anni di residenza nella regione. altre, la Liguria e la Lombardia lo prevedevano invece misure di questo genere, ma credo ne parlerà poi Francesco, con atto amministrativo e quindi su quello non ci fermiamo per adesso. Ma pensate a quando è addirittura la legge a dire no, io nel gruppo delle persone con disabilità seleziono introducendo un altro requisito, sapendo che quel requisito è certamente indirettamente discriminatorio nei confronti degli stranieri, perché è abbastanza pacifico, no, non anzi, è assolutamente pacifico che i requisiti di lungo residenza danneggiano di più gli stranieri perché hanno una mobilità interna nello Stato italiano più elevata e quindi qualunque requisito di lungo residenza in un certo luogo, pur essendo apparentemente in un certo luogo, di fatto danneggia di più gli stranieri. Cosa fare di fronte a norme di questo genere? Beh, ci sono... Potremmo riprendere il tema del nucleo, ma certamente lì ci esponiamo a sentirci dire beh, però 700 euro fanno proprio parte del nucleo, in fondo ci hai altri benefici statali, proprio quei 700 euro sono di più che la regione fa e quindi può mettere delle differenze e può inserire delle differenze, però delle limitazioni. E però, allora, che ne è di quell'articolo 5 che vi citavo prima, no? Protezione contro ogni... Protezione della persona con disabilità contro ogni discriminazione, qualunque ne sia il fondamento. E lì la strada interessante è quella di fare in modo che i giudici possano, di fronte a una norma di questo genere, come l'articolo 5, disapplicare una norma di legge dicendo no, se nell'articolo 5 c'è scritto che non puoi fare differenze tra persone disabili introducendo una discriminazione in base a un altro fattore, quello il giudice lo deve applicare e quindi deve anche cancellare, disapplicare una norma di legge regionale che non tenga conto di questa di vieto di discriminazione. E qual è il problema? Qui si va sul tecnico, quindi vi lascio solo il titolino poi se qualcuno lo vuole approfondire. E il problema è la validità di questa, della Convenzione ONU. E lì è interessante notare che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è ondeggiante, purtroppo. E questo è un punto anche politico molto importante che anche le associazioni sulle quali dovrebbero ragionare. Perché la Corte di Giustizia ha detto in una sentenza del 2013 nota come HK Danmark che siccome l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione ha aderito alla Convenzione vuol dire che la Convenzione ONU dice addirittura in questa sentenza ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Allora, se ha lo stesso valore giuridico dei trattati, qualunque discriminazione in violazione della Convenzione Europea deve essere repressa come vengono represse tutte le violazioni del diritto dell'Unione. E quindi questo ci porterebbe molto avanti. Un anno dopo improvvisamente ha fatto un po' di marcia indietro. Ha detto sì, è vero che l'Unione Europea ha detto che nella sentenza Z era una questione di accesso alle cure mediche per una procurazione assistita eccetera eccetera ha detto che in realtà la Convenzione è un po' generica e quindi il giudice non la può applicare. Può solo, il giudice nazionale non la può applicare. Allora, vedete come quante tensioni si affollano attorno a questa materia però io credo che se noi ci facciamo forte della prima posizione che è molto utile cioè quella della sentenza HK Danmark e cioè quella Convenzione è diritto dell'Unione. Tu la devi applicare reprimendo non solo tu giudice nazionale non solo le non solo le non mi riesco a spegnere reprimendo non solo le discriminazioni della persona disabile ma anche le discriminazioni nel quale si intrecciano altri fattori. Un'ultimissima cosa se ho proprio solo un minuto volevo parlare dell'altro corno del problema che è quando l'intreccio tra le due condizioni non attiene all'accesso ai diritti sociali ma all'accesso al territorio e cioè la persona portatrice di la persona con disabilità ha una tutela in più non alla prestazione ma ad accedere al territorio e qui abbiamo ma lo lascio solo come titolo non faccio più il tempo a parlarne abbiamo la grande questione del permesso per cure mediche il nuovo articolo 19 comma due lettera di bis che ci dice non è ammessa l'espulsione agli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da grave patologie accertate mediante idonee documentazione rilasciata alla struttura sanitaria pubblica tali da determinare un grave pregiudizio alla salute in caso di rientro quindi gravi condizioni psicofisiche grave pregiudizio in caso di rientro cosa cosa sta accadendo in questa vicenda del permesso per cure mediche beh molte cose perché è difficile avere la documentazione del grave pregiudizio bisognerebbe che ogni struttura pubblica in realtà sapesse qual è la condizione di cura nel paese d'origine per poter attestare un grave pregiudizio ma quello che più ci preme mi preme sottolineare è la difficoltà di accedere alle prestazioni e cioè si sta verificando questa cosa che nell'intreccio tra i due fattori che siccome sono una persona portatrice di gravi patologie di grave disabilità posso stare qua legittimamente con un permesso di soggiorno che arriva fino a un anno e poi viene rinnovato man mano ma potrebbe anche essere inferiore e allora come faccio a cedere alle prestazioni che il cerchio si chiude che in quella impostazione che dicevo prima facevano parte di un nucleo indefettibile per la tutela della persona e allora come tu mi tieni qui e non solo se io sono qui e divento disabile va bene non mi puoi togliere la mia prestazione no qui è diverso qui addirittura tu mi fai entrare mi autorizza a stare qui proprio in quanto io sono preottatore di un grave pregiudizio alla salute e un grave pregiudizio in caso di rientro e però non mi dai le prestazioni che fanno parte del minimo essenziale questo non va assolutamente bene ma dove sta il problema uno nella burocrazia complicata che non riesce a mettere insieme i due i due passaggi due che se rispetto a quelle prestazioni va all'articolo 41 e la persona disabile ha avuto un permesso per ragioni di salute inferiore all'anno non si capisce quale sia la norma che gli garantisce le prestazioni abbiamo avuto proprio stamattina una segnalazione all'ospedale in in guarda dove i medici stanno rendendo conto che persone gravemente disabili non sono in grado di avere le prestazioni connesse alla loro disabilità pur essendoli con permesso per cure mediche e quindi è chiaro che la norma andrebbe risistemata e chiarita e comunque hanno seguito tutta questa casistica affinché veramente il cerchio si chiuda e cioè quello che era nucleo indefettibile di tutela dei diritti per chi era già qui lo diventi anche per chi viene accolto doverosamente trattenuto qui proprio per essere curato e per avere una prestazione di sostegno vedete quindi che gli intrecci sono molti e molto complicati e vanno risolti uno a uno con attenzione e conoscenze giuridiche che cerchiamo di mantenere e di tenere vive ma talvolta è davvero difficile grazie grazie a te Alberto una prima suggestione forse quella anche dell'attinenza della materia della quale stiamo parlando con i diritti fondamentali della persona aspetto che non è scontato nel senso che tutti sappiamo che la discriminazione in quanto tale tecnicamente non per forza si attua rispetto a diritti fondamentali della persona si può essere discriminati anche nel poco invece quello che accade effettivamente nelle vicende che stiamo trattando è la discriminazione sui diritti fondamentali su quel nucleo indefettibile del quale parlava Alberto Guariso quello zainetto che lui diceva è un po' l'insieme di diritti che la persona porta con sé ovunque si rechi procediamo però con una categoria che volendo ha un ulteriore fattore di vulnerabilità con sé che è la minore età di fatto l'intervento di Laura Abit come titolo l'età dell'innocenza la tutela dei minori stranieri con disabilità quindi se vogliamo una sottocategoria ulteriormente fragile da tutelare grazie Laura grazie a te Livio e grazie ad Alberto che ogni volta che sento sia nelle interventi di questo tipo sia nelle riunioni o nelle quando facciamo ricorsi insieme è sempre piacevole sentire ascoltare e imparo sempre sì devo parlare ok scusate devo parlare di questa ulteriore immagine mettiamola così essere stranieri in Italia essere oltre che stranieri avere una disabilità e poi oltre che essere stranieri e avere una disabilità essere anche minori di età quindi essere piccole riuscire ad immaginarsi in tale situazione non è così semplice così automatico e soprattutto già dalle parole di Alberto si capisce facendo riferimento all'ultimo elemento presentato quello di una pubblica amministrazione come mi guarda chi si prende cura dei bisogni di cui si porta avanti distanza quali enti riescono a far valere i diritti certo se mi guarda conosce ASGI conosce Leda e quindi si riferisce e fa riferimento ad essi le questioni si risolvono però è fondamentale forse Livio tu poi puoi dare due parole su ASGI anche se credo che tutti la conoscano io mi permetto di dirne soltanto due su Leda è un'associazione di promozione sociale che collega all'interno della regione Lombardia circa 180 associazioni più piccole senza distinzione di disabilità e che è però soprattutto questo associata a FISH a FISH nazionale quindi è una a tutti gli effetti FISH regionale e ha al suo interno questo centro antidiscriminazione intitolato a Franco Bonprezzi che vuole tutelare i diritti delle persone con disabilità in genere e dal 2015 questo servizio legale che esiste da 40 anni si è trasformato in centro antidiscriminazione Franco Bonprezzi e che con Livio con Francesco e con Alberto Guariso discutiamo su varie questioni dalle più piccole alle più grandi alle più piccole in termini di età alle questioni più piccole in termini di di importanza fino ad arrivare a quelle più più grosse cosa posso dire i diritti non devono chiedere permesso questa è forse la frase che deve rimanervi e la tutela dei minori che siano stranieri e con disabilità è una tutela ben dichiarata lo diceva Livio prima dovrebbe essere questa maggiore fragilità individuata da una maggiore tutela ma purtroppo spesso per i casi che arrivano a noi agisce in senso opposto determinando una discriminazione per ogni settore sia a livello giuridico questo è chiaro ma soprattutto a livello sociale questo è ancora peggio eppure dalle parole di Alberto si comprende come la normativa sia ampia sia la legge italiana preveda una forte tutela di tutti i diritti e dei bambini visto che questo è il tema in modo particolare questo indipendentemente dalla nazionalità o dalla origine etnica e anche dalla disabilità le persone con disabilità non devono più ora domandare il riconoscimento dei loro diritti siamo nel 2021 pensi però purtroppo devono ancora chiedere la loro applicazione e combattere perché poi i procedimenti per discriminazioni sono sempre stanno prendendo sempre più pieti sono sempre più conosciuti anche dai giudici che sono un po' refrattari ed è bello che siate numerosi oggi perché desiderosi di conoscere anche questo nuovo sistema le persone appunto non devono più domandare dicevo il riconoscimento dei diritti ma devono chiedere la loro applicazione perché la discriminazione in realtà ne deriva quasi sempre le persone con disabilità quotidianamente vivono situazioni di discriminazione nel nostro lavoro arrivano circa mille pratiche mille richieste di consulenza all'anno il nostro è un servizio gratuito che viene aperto non soltanto alle persone con disabilità e ai loro familiari ma anche alle associazioni e anche soprattutto forse siamo più contenti di questo quando ci fanno delle richieste i comuni cioè gli enti pubblici siamo la rappresentanza delle associazioni anche a livello regionale quindi anche a livello politico abbiamo la nostra la nostra piccola parte e nel nostro lavoro siamo veramente fermamente convinti che i comuni le scuole le associazioni le famiglie tutti i vari enti deputati a farlo possono facilitare e favorire l'eliminazione delle discriminazioni che sono diffuse nella società e che ogni persona con disabilità vive sulla propria pelle certo questo se se ne ha sufficienza e consapevolezza dei diritti riconosciuti ai bambini e stranieri con disabilità perché noi stiamo a disquisire un anno due anni per messi soggiorno di lungo periodo o di breve periodo però ci sono situazioni in Italia rispetto alla normativa che anche se sono italiani non sono consapevoli dei propri diritti la nostra associazione è nata proprio per questo per far divulgare la contezza dei diritti perché se non si è consapevoli del proprio diritto non si può neanche fare valere e a livello di stranieri chiaramente questo gap è ancora superiore ecco perché è stata organizzata da FISH questa campagna nel nostro servizio le domande che riguardano minori con disabilità stranieri hanno cominciato ad arrivarci da 5, 6 10 anni io ci lavoro da 20 anni e questo è il trend ma sono le persone che più hanno possibilità che riescono ad arrivare ad un servizio come il nostro quindi c'è un grande bisogno un grande bisogno non soltanto di far valere i diritti ma anche soprattutto di farli cioè di conoscerli di essere sostenuti e di avere informazioni sul tema e quindi abbiamo detto che viviamo in un mondo che discrimina Alberto ha parlato della definizione della discriminazione secondo la convenzione ONU io faccio un piccolissimo passo indietro permettetelo e vorrei ricordare la definizione di disabilità secondo la convenzione ONU oltre a quella di discriminazioni perché è vero che ci sono situazioni ancora in parte ambigue ma la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è legge italiana a tutti gli effetti della legge 18 del 2009 ratificata appunto dall'Italia e quindi i giudici sono chiamati ad applicarla e per ora fortunatamente i giudici che abbiamo incontrato si sono applicati in uno studio e l'hanno riconosciuta e tornando alla concezione e alla definizione di disabilità è importante e ci tengo a metterla in evidenza ci teniamo a mettere in evidenza che la disabilità è il risultato che c'è tra l'interazione da una parte di una persona che ha sì una menomazione un problema la menomazione è il termine usato dalla convenzione o comunque da noi tradotto e comunque una difficoltà e dall'altra e questa è la cosa più importante ci sono delle barriere le barriere in primis comportamentali e poi ambientali che cosa fanno queste barriere impediscono la piena ed effettiva partecipazione della società della persona con disabilità della persona che ha una menomazione a partecipare alla società su base di uguaglianza con gli altri e questo non poter partecipare alla società su base di uguaglianza con gli altri porta alla discriminazione in sostanza è il contesto il mondo che c'è intorno Franco Bonprezzi diceva la disabilità è negli occhi di chi la guarda è il contesto comunque sociale che è incapace di garantire l'inclusione che la società quotidianamente crea e che non permette appunto di includere se valutiamo e teniamo a mente questa definizione e questa definizione parte sempre dal concetto di persona con disabilità con la convenzione ONU non parliamo più di aggettivi o sostantivi aggettivati ma proprio persona con una disabilità è rilevante quale sia la disabilità che venga poi a esserci ma è una persona che in primis ha il diritto umano di essere considerata come persona poi ha una disabilità e per discriminazione si considera proprio qualsiasi distinzione qualsiasi esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo oppure l'effetto di fare più piccolo di compromettere o annullare il diritto sempre allo stesso livello degli altri quindi ogni trattamento differenziato sulla base della disabilità senza che ci sia una giustificazione è una discriminazione e tutti i ricorsi che poi Francesco abbiamo presentato con l'EDA che Francesco metterà in risalto l'EDA insieme ad ASGI sono stati fatti è stata fatta valere questa discriminazione e lì mi ha detto un'altra cosa interessante a cui mi attacco subito e poi continuo ha detto sul poco la discriminazione non è soltanto la discriminazione eclatante quella che si vede quella diretta o anche quella indiretta quella delle barriere architettoniche per l'antanomasia oppure dopo vediamo il diritto all'inclusione scolastica ma anche quella piccolina le molestie la nostra legge la legge 67 che si inserisce e si collega alla Convenzione ONU fa riferimento anche come discriminazione anche alle molestie cioè a tutti quei comportamenti indesiderati non è questo il momento ma se una persona viene offesa anche quella viene considerata dal giudice una discriminazione sulla base della disabilità importante tendere a mente anche questo concetto quindi una volta vista che cos'è la definizione di disabilità e di una persona con disabilità e la discriminazione e le situazioni quotidiane in cui le persone con disabilità si ritrovano per essere discriminate dal punto di vista dei minori si potrebbe parlare tutto il pomeriggio e fare trattati in realtà quelli che sono gli elementi più importanti che arrivano al nostro servizio e quindi per questo gli ho scelti sono dal punto di vista sanitario dal punto di vista sociale e il diritto alla istruzione questi sono i casi che giungono a noi nel merito del diritto alle prestazioni sanitarie ci sono dei limiti a livello di disciplina sanitaria perché c'è appunto il discrimine regolarmente soggiornante o meno per quanto riguarda i minori questo non esiste non c'è discriminazione o meglio viene superata perché c'è una legge speciale per cui in base alle leggi convenzioni ONU sui diritti del fanciullo la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e combinandole i ragazzini minori con disabilità hanno diritto alle cure speciali alle verisite periodiche e alle cure mediche alle vaccinazioni all'assistenza riabilitativa e anche alle protesi alla diagnosi e alla cura delle malattie anche nel lungo periodo non solo quelle infettive o acute e questo è molto importante poi crea una serie di problemi a cui Alberto ha fatto riferimento prima però già sapere questo è fondamentale e il sapere che si può andare ASGI da un avvocato o da Leda è già un passo molto importante quindi la consapevolezza di cui parlavo prima è fondamentale io e Alberto dovremmo dividerci meglio gli argomenti perché lui ha appunto fatto riferimento all'articolo 41 ma è giusto così anzi siamo ben intersecati quindi è perfetto cosa di stranieri che sono titolari di una carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore appunto ad un anno e noi abbiamo inciso i minori che sono iscritti nella loro carta di soggiorno nel loro permesso di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni economiche dal punto di vista dell'assistenza sociale quindi quando si ha bisogno di aiuto quando una famiglia è in difficoltà può rivolgersi può nel senso che deve e ha il diritto di chiedere aiuto ai servizi sociali o ai servizi previdenziali si faceva riferimento prima all'indentità di accompagnamento alla pensione se entriamo nel nostro piccolo mondo dei minori con disabilità stranieri anche i minori con disabilità stranieri hanno diritto a quella provvidenza che è tipica dei minori che hanno una disabilità ossia l'indentità di frequenza in realtà possono avere diritto anche all'indentità di accompagnamento in situazioni più gravi viene riconosciuto anche il diritto all'indentità di accompagnamento ma normalmente viene riconosciuto a questa viene riconosciuto questo tipo di indentità che è un'indentità mensile che è data al ragazzo per l'inserimento sociale e scolastico di quel bambino di quello studente di quel ragazzo che ha una disabilità questo normalmente fino al compimento appunto del diciottesimo anno di età ecco perché situazione minorile però è vero l'articolo 80 della legge di bilancio del 2000 ha creato notevoli problemi perché siamo in Italia e cosa ha fatto diceva Alberto ha limitato il diritto e sono state necessarie ben tre sentenze due della Corte Costituzionale quindi livello più alto e poi una però che c'è molto cara perché del giudice della discriminazione lo chiamiamo così del Tribunale di Pavia che è dovuto intervenire perché le sentenze della Corte Costituzionale e questo è veramente assurdo che pure c'erano state che pure avevano stabilito il principio di non discriminazione per per un rispetto della Convenzione ONU oppure di nuovo anni dopo per la discriminazione fondata sulla nazionalità soltanto il giudice del il giudice della discriminazione ancora anni dopo arriviamo nel 2013 quindi pensate dal 2000 articolo 80 della legge di bilancio del 2000 fino al 2013 questo è il range di tempo ha questo giudice ha individuato un comportamento collettivamente discriminatorio a carico del UNIS nei confronti degli stranieri che non avevano potuto chiedere il indennità di frequenza o meglio molte molte persone lo hanno anche richiesto e anche ottenuto ma soltanto quelle famiglie che avevano l'accortezza di andare nelle associazioni e hanno avuto la possibilità di informarsi perché invece la maggior parte o malinformate o non in grado di arrivare a ottenere effettivamente la informazione finale dopo 13 anni ripeto un tempo lunghissimo e mi viene da dire perdonatemi anche vergognoso soltanto questo giudice ha detto bene c'è la discriminazione caro IMS devi dare pubblicità al provvedimento giudiziario che sto emettendo sulla tua pagina internet devi finalmente mettere le comunicazioni corrette e chiare sui diritti relativi all'indennità di frequenza anche per gli stranieri e soltanto dall'ora in poi tutti hanno potuto usufruire nello stesso modo comprendete che chiedere a io continuo non voglio fare pubblicità ad ASG o a LEDA che lavoriamo gratuitamente per i nostri associati però è fondamentale veramente poter raggiungere una consapevolezza della necessità di dover informarsi perché non possiamo essere informati su tutto abbiamo fatto tanti ricorsi il bonus neri il bonus Francesco ne parlerà l'altra cosa di cui voglio parlare è ultimo punto concludo abbiamo visto il diritto alle cure mediche il diritto all'assistenza sociale ora il diritto all'istruzione anche questo è un ambito molto molto importante e che vede l'EDA svolgere la propria attività quasi al 40% in favore di questo ambito perché le richieste sono moltissime perché comunque la normativa sull'inclusione nell'ambito della scuola è molto chiara l'avanguardia anche ho visto tra i partecipanti di nocera che il nostro faro sull'inclusione scolastica quindi anche lui può confermarlo siamo visti e anche visti nel senso di guardati anche dalle altre nazioni sul tema dell'inclusione scolastica e però il gap tra l'individuazione del diritto e l'applicazione come dicevo prima lo sappiamo tutti esiste però anche qua secondo l'articolo 38 del testo unico sull'immigrazione i minori di cittadinanza non italiana i nostri minori con disabilità stranieri che sono presenti sul territorio nazionale hanno il diritto a essere a partecipare a essere inclusi nell'ambito delle scuole italiane nelle forme e nei modi questo è importante previsti per i cittadini italiani questo indipendentemente dalla loro regolarità o no del permesso di soggiorno quindi è una norma chiara non c'è discriminazione ritorniamo alla nostra CRPT la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è l'articolo 24 della Convenzione ONU ma tutta la normativa di inclusione scolastica dalla legge 104 del 1992 che definisce l'handicap dal punto di vista sociale fino al nuovo decreto interministeriale di fine dicembre del 2000 che ha previsto i nuovi pay per gli alunni con una disabilità permettono e impongono agli stati parte di garantire un sistema di istruzione a tutti i livelli e a tutti gli alunni con disabilità quindi alla fine non c'è distinzione però di nuovo se per un alunno con una disabilità è già non semplice ottenere a tutti i livelli tutti quegli strumenti compensativi dispensativi utili la formalizzazione del pay l'assunzione degli strumenti come insegnanti di sostegno assistenza educativa e quanti ricorsi abbiamo fatto nel 2012 con con ASG tanti eppure meno rispetto a quelle che erano le domande cioè il bisogno è tantissimo tutti vogliono fare ricorso nel senso che il la discriminazione è quotidiana erano arrivate a noi mi piace ricordarlo un cento famiglie eppure di queste cento famiglie a cui non veniva riconosciuto il diritto perfetto a essere incluso in quella classe in quella scuola soltanto una quindicina hanno fatto ricorso e hanno pur se sostenuti da noi associazioni anche da un punto di vista economico in quel caso perché si fa fatica a fare a fare un ricorso non è così automatico non è così semplice le famiglie pur avendo consapevolezza del proprio diritto poi il salto per farlo valere veramente è importante e il nostro lavoro si basa anche su questo scusate ho fatto un escurso non c'entrava quello che volevo dire è che la normativa c'è sembrerebbe esserci assolutamente quindi non discriminazione a livello normativo eppure però nella pratica in realtà tante persone vengono a richiederci e a disporci situazioni di non inclusione perché se per una famiglia con all'interno un bambino con disabilità è già non semplice far valere i diritti nei confronti del comune dell'assessore dell'assistente sociale del dirigente scolastico degli insegnanti di sostegno degli insegnanti curricolari un bambino con una disabilità straniero che ha anche delle peculiarità di inserimento sociale e culturale di quella famiglia all'interno del nostro sistema scolastico determina un gap ancora maggiore quindi abbiamo bisogno di di sostenervi ancora di più vorrei concludere dicendo soltanto due cose se posso ancora quello del superiore interesse del del bambino è la convenzione dei diritti sul fanciullo abbiamo parlato di convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità la nostra normativa comunque all'avanguardia ma è importante che si tenga a mente questo che in tutte le decisioni in cui si ha a che fare con un minore con disabilità con straniero evidentemente che all'interno di una scuola all'interno di un comune all'interno di un di una TS all'interno di un tribunale o qualsiasi autorità amministrativa l'interesse superiore del fanciullo deve essere la nostra la nostra guida questo è un po' il lavoro delle delle nostre associazioni l'auspicio proprio è questo che la conoscenza dei diritti si diffonda e fate riferimento alle associazioni perché non soltanto noi ma anche tutti voi avete il compito e il compito no meglio scusate il dovere di combattere le discriminazioni grazie grazie a te Laura il tuo intervento chiama sicuramente in causa il ruolo e l'importanza dell'associazione nella tutela dei diritti ma è esperienza comune di tutti noi che ci occupiamo di queste materie come i progressi importanti nella lotta alla discriminazione alla violazione della parità di trattamento siano stati fatti spesso all'interno di campagne promosse da associazioni o da anche da legali da operatori legali che all'interno di queste associazioni hanno operato quindi sicuramente è un monito che teniamo presente per un miglioramento ulteriore diciamo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e di fatti l'intervento di Francesco Rizzi che ora introduco inizia proprio il film titolo proprio l'unione fa la forza il contenzioso giudiziario e l'intersezionalità quindi ci interroghiamo di come possa appunto questa unione tra persone portatrici di fattori tutelati e aiutarci a superare queste disabilità e questi problemi di cui stiamo parlando grazie Francesco grazie a te Livio buonasera a tutti e a tutte grazie per invito a partecipare a questo incontro io condividerei subito delle slide per iniziare a parlare dei temi però sto cercando di capire come perché dall'ultima volta che ho usato Zoom con le slide il sistema si è aggiornato io non avevo aggiornato il sistema e quindi devo riuscire a farlo mentre vi parlo scusate avrei dovuto muovermi in anticipo speriamo di essere riusciti a farlo scusate eccoci qua voi adesso vedete tutto il mio schermo adesso cerco di eliminarlo ce l'abbiamo fatta scusate davvero di non essermi preparato prima per questa cosa noi parliamo oggi e sempre più spesso di intersezionalità perché perché chi si occupa della tutela dei soggetti discriminati necessariamente si rende subito conto del fatto che in certi aspetti fortunatamente ognuno di noi ognuna di noi è composto da più dimensioni una persona non è solo una persona disabile non è solo uomo non è solo donna non ha solo un determinato orientamento sessuale oppure un altro il problema è che poi se le diverse forme cosiddette di subordinazione di vulnerabilità che caratterizzano la persona che sono connesse scusatemi a determinati elementi identitari della persona umana rischiano che di massimizzare l'effetto e la situazione di vulnerabilità in cui le persone si trovano è vero che proprio grazie all'utilizzo di azioni collettive in particolari comuni che si sono basate sulla collaborazione tra associazioni che nascono all'inizio come focalizzate sull'interesse nel portare avanti le battaglie delle persone con disabilità e dall'altra parte a concentrarsi per esempio sulla condizione sulla vulnerabilità e la discriminazione delle persone straniere si è riusciti davvero a smantellare un sistema di esclusioni quello che io vorrei cercare di farvi vedere un po' come la giurisprudenza quali tecniche anche argomentative quali forme di scrutinio vengono messe in atto nelle sentenze per riuscire appunto a dichiarare l'illegittimità di alcuni criteri escludenti l'intersezionalità è di sicuro è riconosciuta come una possibile causa più che una possibile causa chiedo scusa come una delle possibili caratteristiche di un trattamento favorevole un effetto discriminatorio che può raggiungere determinati soggetti in quanto portatori di più fattori di discriminazione e qui molto banalmente ma secondo me questa parte ci interessa di meno vi faccio un po' capire anche come illustro come sono le definizioni date dalle direttive antidiscriminatorie dall'altro c'è la discriminazione multipla quando una persona viene discriminata magari anche in due momenti diversi in ragione di due fattori diversi mentre invece se noi parliamo di intersezionalità parliamo del fatto che la discriminazione del caso in cui la discriminazione a danno di una persona sia il risultato di una sorta di fusione tra i due fattori vietati di discriminazione di cui questa persona è portatrice devo anticipare non tanto una conclusione però il fatto che la giurisprudenza poche volte è riuscita a elaborare in modo chiaro il concetto di intersezionalità per quanto riguarda la tutela antidiscriminatoria noti e sono dei casi soprattutto della giurisprudenza nordamericana che riguardano le donne afroamericane in un caso molto famoso che è il caso General Motors che l'azienda aveva deciso di procedere con dei licenziamenti collettivi e un gruppo e risultava che tutte le persone licenziate erano donne afroamericane di fronte al ricorso di tutte queste donne la corte di una di queste donne in realtà la corte si fermò e disse no non posso offrire una tutela una super un super rimedio super remedy lo chiamava in quel caso perché perché risultava che le donne era stato utilizzato un criterio assolutamente apparentemente diciamo neutro ovvero l'anzianità di servizio per decidere quali persone sarebbero state licenziate e era risultato che i termini della comparazione non consentivano di accertare che quella fosse una discriminazione sulla base del genere perché alcune donne erano perché c'erano donne che avevano un'anzianità di servizio che aveva consentito loro di conservare il posto e così come non si poteva dire che era una discriminazione sulla base della razza perché perché molti uomini di colore erano stati avevano appunto anche loro un'anzianità di servizio sufficiente per conservare il posto la stessa cosa è un po' successa nella giurisprudenza a corte di giustizia io qui sotto vi ho citato alcuni casi che voi vedete il caso Coleman disabilità e genere il caso Acquita religione e genere ma anche il caso Zeta che è già stato citato dall'avvocato Guarison disabilità e genere parris orientamento sessuale d'età in cui la corte di giustizia non parte minimamente dal metodo intersezionale si limita a discutere l'uno o l'altro fattore a verificare se l'esclusione che o il trattamento sfavorevole che si realizzava in quel caso fosse legittimo fosse giustificato oppure no e raggiunge la propria conclusione uno dei casi appunto più interessanti è proprio il caso Parris perché in quel caso si trattava di dover accertare il fatto che una persona omosessuale che aveva già compiuto 63 anni non poteva accedere ai sensi della norma nazionale a determinati benefici connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa perché questi benefici erano dipendenti dal suo stato civile e pur essendo lui al momento della causa all'interno di una civil partnership il legislatore nazionale aveva introdotto molto tardi le civil partnership e il signor Parris quando aveva potuto sposarsi aveva ormai superato il limite d'età per cui questi benefici potevano essere connessi la corte perché in questo caso per esempio si ferma perché la materia dello stato civile è una materia per esempio di competenza degli stati membri e non dell'unione e non dell'unione europea e nel momento in cui la corte avesse deciso di incrociare i due fattori di sicuro avrebbe dovuto riconoscere che c'era un trattamento sfavorevole per le persone che un po' più anziane che quindi non erano riuscite omosessuali che quindi non erano riuscite in tempo per poter beneficiare della prestazione per cui era stata avviata la causa del non erano riuscite a contare il matrimonio perché il matrimonio ancora non c'era per le persone omosessuali in questo caso avrebbe dovuto creare un superrimedio in realtà forse chiamarlo superrimedio è un'accezione data dalla corte suprema nordamericana che non è dalle corti nordamericane che non è del tutto a mio avviso condivisibile ma vabbè avrebbe dovuto fare cosa? avrebbe dovuto mettere in discussione la separazione di competenze tra l'unione europea e gli stati membri e quindi questa è una cosa che la corte giustizia in alcuni casi ha fatto ma non in tutti quindi voi vedete che questo ci serve un po' per capire che molto spesso l'intersezionalità può comportare per il diritto che può essere anche un po' banale si deve muovere all'interno di categorie deve comparare A con B e quindi se B ha delle caratteristiche che lo rendono B più qualcosa questo può mettere un po' in discussione la rigidità un approccio rigido diciamo al diritto antidiscriminatorio possiamo dire che la giurisprudenza invece che ha trattato dell'incrocio tra la condizione di straniero e la condizione di persone con disabilità ha raggiunto dei risultati più promettenti più positivi e questo è dipendente da diversi elementi prima fra tutti il tipo di scrutinio si deve chiamare necessariamente così di ragionamento che i giudici fanno quando sono chiamati a dover valutare l'illegittima esclusione di cittadini con una disabilità stranieri da determinati benefici tupiamo però sempre tenere a mente alcune considerazioni generali ovvero che la tutela antidiscriminatoria non è la panacea la soluzione di tutti i mali infatti alla fine di questa presentazione vorrei riprendere due questioni che già Laura prima di me ha accennato quando ho detto l'importanza appunto della collaborazione e del ruolo delle associazioni e perché no a volte anche degli avvocati e delle avvocate ne riuscire a risolvere queste questioni ma appunto a volte il diritto può rappresentare anche non lo chiamerei mai un limite ma è necessariamente un percorso che segue determinati presupposti metodologici che non sempre riescono a dare a fare giustizia rispetto a delle condizioni che invece nella società esistono e anche diverse possono essere le concezioni di uguaglianza alla base di questi argomenti sviluppati dalle corti perché potrebbe essere se noi ci limitassimo per esempio a una valutazione un approccio procedurale all'uguaglianza noi siamo tenuti a dover verificare se la finalità perseguita per esempio dal legislatore è legittima e se i mezzi con cui l'ha raggiunta sono proporzionati il concetto di proporzionalità molto spesso diventa deve essere molto bene argomentato e pensiamo quante volte anche in determinati casi la corte costituzionale ha saputo dire che ha ripetito il fatto che c'è un margine di discrezionalità del legislatore anche prima quello che vi dicevo la differenza tra le competenze dell'Unione Europea e le competenze degli stati membri c'è un limite è vero che però proprio sul tema come è già stato detto dei diritti delle persone con disabilità si è riusciti a realizzare a mettere in discussione quelle esclusioni che diversamente se noi le avessimo viste solo dal punto di vista della condizione della persona straniere non si sarebbero potute forse mettere in discussione i casi sono un po' quelli che ha già accennato Alberto Guariz ma poi che ha anche ripreso Laura Abet sulla su tutta la giurisprudenza della corte costituzionale la corte costituzionale ha fatto ha seguito due principali binari per mettere in discussione prestazioni o comunque diritti connessi alla condizione di cittadino straniero con disabilità uno è quello del nucleo indifettibile dei diritti molto spesso giustamente grazie anche all'impianto solidaristico che è alla base della nostra carta costituzionale la condizione di straniero la condizione di persone con disabilità viene vista come una condizione che giustamente dà diritto a una serie di misure necessarie per consentire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale in realtà il ragionamento sul nucleo indifettibile dei diritti non deve essere a mio avviso visto solo come il nucleo dei diritti delle persone più vulnerabili ma può essere un discorso molto più ampio connesso proprio alla dignità di tutti e tutte le consociate così quindi da creare qualcosa secondo la giurisprudenza corte costituzionale che pone un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore esiste quindi se il legislatore può operare determinate scelte noi dobbiamo sempre cercare di costruire una narrazione che e anche nei ricorsi che scriviamo quindi auspicabilmente anche nelle sentenze che poi leggeremo in cui si studia e si identificano quali sono i quali sono i contenuti e gli argomenti che portano a definire i contorni di un nucleo indifettibile di diritti ovviamente questo ha consentito alla corte costituzionale di ritenere illegittimi tutti quei l'esclusione da tutti quei benefici connessi alla condizione anche di invalidità che non venivano erogati ai cittadini stranieri in ragione del titolo di soggiorno è quindi il nucleo indifettibile di diritti che annulla le differenze tra cittadini stranieri tra cittadini stranieri che sono titolari di titoli di soggiorno di permessi di soggiorno diversi esistono però anche altri sistemi per esempio noi non stiamo parlando di un nucleo indifettibile di diritti quando stiamo parlando del caso citato da Libio all'inizio sulla cittadinanza il riconoscimento della cittadinanza italiana è un atto di alta amministrazione da parte appunto del ministero dell'interno ma attenzione qui si nasce sempre di più la prospettiva antidiscriminatoria la prospettiva che ti dice attenzione non stiamo parlando di un diritto alla prestazione sociale non esiste un diritto alla cittadinanza stiamo parlando di un diritto a non essere discriminati e quindi quando la corte dice posso chiedere a una persona di giurare se questa persona non è nelle condizioni di giurare io sto utilizzando un criterio uguale che però non consente esclude determinate persone ovviamente più noi ci spostiamo dal nucleo essenziale indefettibile di diritti che non è qualcosa di statico ma appunto come dicevo ogni volta può essere ridefinito attraverso argomenti la corte costituzionale ha individuato un ulteriore criterio e il criterio è quella della mancata connessione tra il bisogno tutelato e il requisito escludente come vedremo poi molto spesso i casi che riguardano questo tipo di esclusione per i cittadini stranieri con disabilità sono i requisiti di residenza ma requisiti di residenza che possono essere non necessariamente connessi a prestazioni di sopravvivenza di sopravvivenza permettetemi questa espressione un po' semplicissima ma che rende di te ma a qualunque tipo di misura di welfare che viene stabilita e una volta che l'azione il potere pubblico il potere dello Stato o delle regioni decide di amministrare di questo deve tener conto nel momento in cui esiste un bisogno che una prestazione necessariamente deve rispettare vuole compensare i requisiti di accesso devono necessariamente essere connessi e quindi ragionevoli rispetto al bisogno che si vuole tutelare questo ultimo criterio come leggete sulla slide è quello che però si presta di sicuro un'opera di bilanciamento dei risultati più incerti si potrebbe dire che negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha iniziato a davvero essere più più sistematica nel e più precisa nel ribadire appunto la mancata di connessione tra un bisogno tutelato e il requisito escludente però ovviamente se non sto parlando di un nucleo indifettibile di diritti che quindi su cui non si può mettere non si può avere questione è sempre possibile che le due posizioni che le due posizioni quella di escludere e quella di includere possano essere un po' bilanciate ci siano quindi interessi molto spesso gli interessi e le ragioni anzi sono quelle economiche che consentano una consentano di valutare legittimi alcuni criteri escludenti molto interessante secondo me è poi la sentenza del Tarlazio del 7 luglio 2020 sempre connessa alla cittadinanza perché in questo caso tra non è in realtà un requisito della cittadinanza previsto dalla legge sulla cittadinanza ma il diniego appunto essendo un atto di alta amministrazione il diniego della cittadinanza può essere previsto può essere dichiarato da parte del ministero nel caso in cui la persona non dimostri redditi sufficienti e come parametro è sempre stato utilizzato quello dell'articolo 3 della legge del 382 del 1989 che però esclude automaticamente un cittadino straniero titolare dell'indennità di accompagnamento e completamente inabile al lavoro anche qui non stiamo parlando di diritti non stiamo parlando di diritti fondamentali di un nucleo essenziale di diritti ma fino a quel momento la corte il tar lo ribadisce il tar e la giurisprudenza amministrativa avevano sempre ritenuto legittimo quel tipo di requisito adottato via amministrativa per poter accogliere o rigettare le domande le domande di cittadinanza perché era applicato con un approccio molto formale all'uguaglianza a tutti i cittadini stranieri e derivava secondo la giurisprudenza amministrativa la dover di contribuire con un certo reddito da parte di coloro che vogliono far parte della comunità dei cittadini in questo caso il tar si arresta e ribalta totalmente la prospettiva e dice attenzione laddove però tu sia un soggetto inabile al lavoro applicare rigidamente questo criterio si porrebbe in insanabile scusate manca la parola contrasto nella slide con gli articoli due diritti fondamentali dell'individuo e tre il principio di uguaglianza della costituzione il tar va oltre e dice anche l'integrazione con la comunità non si realizza solo attraverso il reddito ecco noi qui vediamo di sicuro un risultato necessario ma dovremmo anche ogni tanto chiederci se anche un cittadino straniero mi verrebbe da chiederci se anche un cittadino straniero non disabile che però magari arriva a poco meno dei redditi dei redditi indicati non abbia comunque non faccia parte di una comunità e non sia integrato all'interno della comunità ovviamente poi il parametro di reddito può essere anche utilizzato in modo flessibile però ecco è vero che questi casi ci consentono molto spesso di mettere un po' in discussione anche le regole che non riguardano solo i soggetti con una doppia vulnerabilità ma quelle regole un pochino generali di cui che noi prendiamo per assodate ma che forse appunto così razionali nel loro argomentare non sono perché se ci rimettassimo appunto a una concezione dell'uguaglianza molto formale noi potremmo dire che quel requisito si applicava lasciando da parte la condizione di disabilità a tutti i cittadini stranieri e quindi perché anche solo metterlo in discussione un altro caso qui noi abbiamo forse visto fino adesso tutti i casi in cui è più una condizione di disabilità che consente al cittadino straniero di ottenere quella parità quella parità appunto ricercata esiste però anche un caso contrario o meglio non è detto che un caso proposto come un caso di esclusione di cittadini con disabilità e quindi di discriminazione per disabilità non possa essere anche letto in un'altra prospettiva quindi solamente dalla prospettiva del cittadino straniero e questo è anche uno dei motivi per cui molto spesso come avevo detto all'inizio la giurisprudenza non si interroga tanto sulla sulla questione dell'intersezionalità perché perché la giurisprudenza si riesce facendo valere una norma oppure l'altra per semplificare le norme di tutela norme che parlano di discriminazione sulla base della disabilità la norma che invece tutela come vedremo in questo caso determinate categorie di cittadini stranieri ragione del loro titolo di soggiorno si riesce comunque a rimuovere la discriminazione in più la giurisprudenza che vi avevo i criteri individuati dalla giurisprudenza la corte costituzionale di fatto integrano senza troppo discutere magari elaborare però le due condizioni e quindi ti dicono di fronte a un dovere indefettibile le condizioni che è in dovere di assistenza nei confronti delle persone con disabilità tutti i cittadini sono uguali quindi se noi non abbiamo grandi argomentazioni forse su cos'è la discriminazione intersezionale forse anche perché in molti casi non c'è perdonatemi semplifico molto però forse non c'è necessità forse c'è non abbiamo giustamente una famosissima bravissima avvocata accademica americana Catherine McKinnon dice forse l'intersezionalità non deve essere concepita come un terzo box ma come un metodo e determinati criteri giuridici quelli che abbiamo visto prima nella giurisprudenza della corte costituzionale ci consentono di prendere in considerazione le diverse dimensioni che possono portare ad un'esclusione questo caso che vi citavo del tribunale di Milano è un caso in cui che ha visto un'azione collettiva se non sbaglio di un'azione collettiva di Leda no un'azione collettiva promossa da ASG ma anche un intervento di Leda quindi un'associazione tutela dei diritti delle persone degli stranieri e dall'altra parte delle persone con disabilità e in questo caso appunto si trattava di un di un bonus previsto da una legge nazionale in questo caso un bonus ASG che nel caso appunto di minori con disabilità che dovevano per forza quindi che non potevano frequentare il nido la prestazione veniva erogata tramite una somma che doveva quindi compensare la frequenza del nido per poter coprire le spese di assistenza del bambino cosa fa l'Inps che precisiamolo subito l'Inps non ha un potere il potere non è il potere legislativo quindi non può introdurre requisiti escludenti neanche tramite circolari vai questo come criterio generale teniamo bene in mente dovessimo guardare il circolare l'Inps che se il requisito non è previsto nella legge non può essere previsto da una circolare dell'Inps l'Inps appunto diceva va benissimo questa prestazione può essere erogata ma può essere erogata se sei straniero solo ai titolari di un permesso di lungo soggiorno in questo caso l'azione è in effetti forse anche stato diciamo più giusto così cioè i cittadini esclusi erano i cittadini stranieri che dovevano assistere persone con disabilità quindi certo che la componente della disabilità era fondamentale ma la prospettiva era proprio quella del cittadino straniero tu non potevi che essere un cittadino straniero che doveva assistere una persona con disabilità per essere così escluso in questo caso si sarebbe potuto pacificamente io penso argomentare sul fatto che si dava una prestazione di natura essenziale che quindi consentiva ai genitori dei bambini con disabilità di poterli assistere come i genitori dei bambini senza disabilità fanno potendoli appunto mandare a scuola con questo bonus però è vero che questo risultato si è raggiunto attraverso il richiamo a una direttiva dell'Unione Europea che prevede la parità di trattamento per i cittadini titolari di determinati di un determinato titolo di soggiorno che è il permesso unico lavoro che è il cosiddetto permesso normale nell'accezione quello più comune che adesso viene riconosciuto ai cittadini stranieri che non sono ancora lungo sul giornale è questo è questa direttiva che mettendo in connessione questa clausola di parità che prevista dall'articolo 12 con i settori della sicurezza sociale tra cui appunto le prestazioni familiari ma anche le prestazioni di invalidità impone la parità di trattamento per questi cittadini ecco come vedete qui la strada che è stata percorsa non è stata tanto quella di ma è una prestazione essenziale ma non è una prestazione essenziale punto stiamo parlando di un obbligo di parità che riguarda qualunque tipo di prestazione rienti in quei settori e quindi è stata la condizione di straniero titolare di un determinato permesso a consentire la tutela io ho continuato a parlare e non ho chiesto se forse mi dovevo zittire Livio sto concludendo un altro caso è stato un caso è stato molto bello perché avevamo un incontro quella mattina sempre con le persone qui presenti che riguardava in parte anche questi temi che stiamo discutendo oggi e a mezzogiorno è arrivata l'ordinanza che ha deciso un giudizio in una causa proposta da Leda e da Asgi contro Regione Lombardia che nell'utilizzo previsto nell'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze aveva previsto diverse misure economiche per evitare appunto per consentire la domiciliarietà quindi restare alla propria abitazione delle persone con disabilità e aveva previsto un requisito di residenza in regione di almeno due anni quindi anche poco non moltissimo in questo caso perché si è deciso di fare una causa Asgi e Leda perché tutto noi possiamo dire ma qui non sono solo gli stranieri ad essere esclusi qui noi stiamo parlando di persone con disabilità che magari il Veneto si è appena trasferito in Lombardia e non lo può ottenere in effetti la giudice che ha deciso questa sentenza ha chiarito che trattandosi di un nucleo che la vita autonoma che di fatto questa misura cercava il più possibile di garantire rientrasse in quel nucleo essenziale di diritti fondamentali verso cui il verso cui appunto il legislatore non poteva non poteva appunto mettere alcun frapporre alcun ostacolo non fosse giustificato il fatto che qualcuno persona con disabilità potesse essere esclusa in giudice la giudice poi aggiunge anche il fatto che peraltro non sarebbe neanche se si volesse uscire da questo nucleo essenziale ragionevole perché il fatto che io debba condurre una vita autonoma non dipende dal fatto che io mi sia appena trasferito una regione e io sarò ben libero di circolare su tutto il territorio nazionale senza aver paura di poter o meno beneficiare di fondi che sono fondi nazionali però volevo appunto portare a vostra attenzione su questa ultima frase tali considerazioni appaiono assorbenti e rendono pertanto superflua nell'analisi degli ulteriori profili di discriminazione ovvero quelli connessi alla condizione di straniero perché uno straniero era discriminato perché se io sono un cittadino straniero in quel caso riguardava anche i minori stranieri e quindi anche appena nati perché se io sono straniero è più facile che io anzi scusate è più difficile che io riesca a raggiungere un requisito di lungo residenza per quanto più o meno lunga perché posso essere arrivato da poco posso essermi stabilito più difficilmente in determinate in una determinata area perché magari ho trovato una prima opportunità di lavoro ma poi mi sono spostato non ho sul territorio un una serie di legami forse me li devo ancora costruire e quindi sono più propenso a spostarmi ora è evidente che questo tipo di condizione quindi la residenza è meno ingiusta chiedo scusa se noi la guardiamo solo dal punto di vista ci pare scusatemi meno ingiusta se noi la guardiamo dal punto di vista solo della condizione solo per il dato che è ovvero la residenza togliamo quindi il fatto che stiamo beneficiando di prestazioni fondamentali che non ci consentono che non possono subire limitazioni però è anche vero che se io adotto una prospettiva pura di diritto antidiscriminatorio io dovrei ribaltare il ragionamento e chiedermi ma esiste una di nuovo connessione tra il fatto che ci sia quel si è previsto quel requisito escludente e il fine che la misura vuole tutelare in questo modo c'è è giustificato quali tipi di oneri comporta il fatto che vengano incluse anche persone che restano che sono sul territorio da molto poco ecco se noi ribaltiamo la prospettiva riusciamo anche a capire come il percorso per raggiungere dichiarare l'illegittimità di un determinato requisito può essere più difficile in determinati casi è meno netto è più discutibile se è legittima o meno questa esclusione ma di sicuro ci offre un'altra prospettiva perché lo dico sarebbe stato importante in questo caso la sentenza ormai è definitiva è passato in giudicato quindi va bene così ma posto che in questo caso l'azione era stata proposta anche da ASGI mettendola in questo modo il giudice la giudice insomma sembra quasi che ASGI sia legittimata a fare causa per discriminazione per persone con disabilità mentre invece lo scopo statutario di ASGI è quello di occuparsi della condizione di straniero che può intersecarsi ovviamente con la condizione di persona con disabilità come succede in questo caso però l'averlo ignorato tutto sommato pone sembra dimostra ancora un po' la difficoltà con cui questo tipo di aver esplicitamente dichiarato che il profilo della discriminazione degli stranieri resta assorbente è un po' un problema perché non si riuscirebbe a capire perché ASGI sia legittimata a proporre una causa l'ultima l'ultima davvero concludo la la condizione di disabilità rispetto a tutti gli altri fattori di discriminazione riesce e in questo permettetemi di utilizzare questa parola questo avverbio fortunatamente a inserire nel diritto un davvero un vero cambio di prospettiva perché perché non si guarda la persona con disabilità molto spesso richiede e anzi il 99% dei casi deve avere a diritto richiede un trattamento differenziato e questo ci fa capire come molto spesso noi abbiamo delle regole che vanno bene a qualcuno ma non vanno bene a qualcun altro e noi quelle regole non le mettiamo neanche in discussione ma quello che forse dovremmo chiederci è ma perché facciamo una cosa in questo modo o guarda ci sono delle persone che vanno escluse risultano escluse e quindi io che potere ho di dire che una determinata scusatemi la banalità delle parole una determinata cosa si deve fare in quel modo e non in un altro ecco questo consentirebbe se noi adottiamo questa prospettiva e la condizione delle persone con disabilità ci aiuta molto a farla ci consente appunto di andare oltre creare spazi di cittadinanza più comuni e inclusivi questi spazi di cittadinanza non possono essere creati solo dal diritto le associazioni hanno una voce che deve essere che a volte non viene ascoltata ma è una voce costante in molti casi molto presente che che funge da pungolo per il potere pubblico che impone al potere pubblico questione che in Italia come stiamo vedendo in questo periodo soprattutto in determinate aree pare dimenticata ovvero un concetto in inglese lo chiamano accountability ovvero il fatto che qualunque azione esercitata in funzione appunto della pubblica di pubblica amministrazione deve dare conto del perché si sono fatte determinate scelte e quindi raccontare la vita delle persone tramite anche i soggetti che oggi immagino ci saranno ci siano anche tanti assistenti sociali ecco il diritto ha bisogno un pochino di storie perché diversamente come succede all'inizio si riesca di creare quei corti circuiti in cui le corti e i giudici si preoccupano di dare super rimedi forse si dovrebbe considerare che il senso del diritto antidiscriminatorio è quello appunto di dare una diagnosi della società e che quindi di prendere in considerazione davvero i soggetti esclusi e i motivi delle esclusioni e poi ragionare se questa esclusione è legittima oppure no ma non appunto creare barriere tecniche perché non si riesce a dar conto quindi il lavoro di tutte e di tutti e soprattutto di coloro che appunto possono raccontare queste vite permettetemi diverse è fondamentale perché poi anche il diritto si aggiusta e i giudici poi condannano riescono a essere persuasi e condannano i comportamenti discriminatori mi fermo grazie Francesco mi sembra un po' di poter capire che la discriminazione intersezionale può essere anche un invito a vedere a leggere le persone senza l'astrazione del loro fattore di tutela quindi nessuno di noi è solamente personalizzabile o solamente portatore di una certa opinione politica o credo religioso siamo complessi e nella nostra complessità possiamo essere discriminati e quindi dobbiamo essere tutelati e forse il dialogo tra associazioni con storie così diverse come le nostre ha già dato come dicevi alcuni frutti e forse dobbiamo cercare di proseguire anche questo tipo di dialogo fino a qualche anno fa in esistente tra associazioni che di fatto si occupano di cose diverse nella loro quotidianità le domande che erano state poste sulla chat hanno avuto risposta direttamente da Alberto Guariso che ha scritto appunto in chat quindi se qualcuno vuole intervenire può farlo altrimenti appunto Alberto Guariso aveva un'ultima piccola annotazione da fare però lascerei la priorità eventuali interventi che ce ne sono quindi aspettiamo anche qualche secondo per vedere se qualcuno ha intenzione di intervenire lo aspettiamo se nessuno si fa avanti ne si prenava devo aver io ho tramortito perché ho parlato mi sono reso conto e sono parlato per troppo tempo spero che ce l'abbiano fatto a tutti ma andare bene allora Alberto volevi fare una piccola aggiunta poi magari due minuti a conclusione se qualcuno ancora vuole intervenire vi avremo grazie forse merita un'attenzione ricordare che tutto il quadro che abbiamo fatto della Corte Costituzionale in realtà ha avuto negli ultimi mesi una svolta veramente epocale sulla quale dobbiamo continuare a lavorare perché a partire dalla sentenza 44 del 2020 e più ancora con la sentenza 9 del 2021 ha detto una cosa sorprendente che non ci aspettavamo e cioè che tutto il ragionamento sulla ragionevole correlabilità tra di cui ha parlato Francesco e Laura tra la finalità della prestazione e il criterio di limitazione salta perché comunque non si possono chiedere requisiti che non siano strettamente collegati col bisogno cioè tutto ciò che non considera il bisogno della persona non entra nel welfare tant'è vero che dice sono due sentenze relative all'accesso alla casa per la quale erano previsti i requisiti di residenza nella regione e dice non c'è nessun ma non tanto sotto il controllo di ragionevolezza al quale facevano riferimento le sentenze precedenti detto proprio non si possono fare perché da un lato non ci dicono niente sul famoso radicamento territoriale cioè sulla speranza la prospettiva che la persona si fermi effettivamente in quel determinato luogo per il futuro uno può essere lì da 5 anni e andarsene il giorno dopo questo era fin troppo ovvio ma soprattutto qualunque ragionamento sul cosiddetto radicamento territoriale non ha a che vedere col bisogno che ci possono essere persone che hanno più bisogno e sono lì da meno anni quindi è chiuso il discorso adesso non vorrei esagerare ma siccome questa siccome questo orientamento si è emerso nel marzo del 2000 con la prima sentenza che è stato seguito da 4 sentenze l'ultima la 9 del 2021 del mese scorso che hanno ribadito lo stesso principio direi che a questo punto è consolidato allora vuol dire che il welfare veramente si orienta sul bisogno altri criteri selettivi non possono essere presi in considerazione questo cambia molto e una seconda considerazione basata sulla giurisprudenza recente richiederebbe un'illustrazione ma la dico solo per riagganciarmi all'ultima slide di Francesco è quella che consiste nelle novità giurisprudenziali in materia di licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto ormai si sta consolidando l'idea che l'uguaglianza del disabile comporta che avendo più possibilità di ammalarsi il disabile ha diritto un periodo di tutela delle sue assenze maggiore rispetto alla persona non disabile è esattamente il concetto di eguaglianza sostanziale mediante il trattamento differenziato era una cosa che tra l'altro proprio nella sentenza HK di cui parlavo prima aveva inaugurato la corte di giustizia sembrava un po' faticoso da far passare anche perché non c'è il periodo di tutela massimo fissato da una qualche norma che dice al giudice guarda non sono 180 giorni ma per la persona disabile sono 200 250 quindi richiede anche un intervento equitativo che di solito spaventa un po' i giudici e però è andata bene cioè ormai si sta consolidando questo principio e cioè il il disabile che lavora la persona disabile che lavora ha diritto a un trattamento differenziato più forte di quello della persona non disabile anche nel momento in cui si è assenta dal lavoro per malattia differenze per essere uguali e questa è la grande forza del diritto antidiscriminatorio queste due novità una a livello di corte costituzionale e un altro a livello più di tribunali di corte d'appello direi che sono due canali di ragionamento e di intervento che andranno seguiti con grandissima attenzione perché sono suscettibili i grandi sviluppi grazie Alberto vedo che nessuno si è prenotato per intervenire quindi forse direi che il seminario è stato interessante impegnativo anche forse però possiamo aggiungere la conclusione quindi vi ringraziamo tutte e tutti per aver partecipato speriamo di avere dato qualche spunto non solo per la riflessione ma anche per un'azione coordinata tra soggetti diversi e che tutelano persone con diverse fattore diciamo di vulnerabilità e quindi ci rivediamo sicuramente in qualche occasione simile per preparare qualche azione e quindi buona serata a tutti e tutti e alla prossima iniziativa domani sera vedete vi ritrovate il programma sulle pagine di PISC di Leda del Festival dei Diritti Umani e di ASGI l'ultimo appuntamento di questa tre giorni per la discriminazione grazie ancora e buona serata grazie a tutti